ciao amici sono Liliana Jaramillo oggi con un nuovo video in questo video parlerò di un prodotto che sto usando per far crescere più velocemente i capelli si tratta delle vitamine per capelli pelle e unghie della Swiss un prodotto che mi avevano consigliato però che non avevo usato mai però ho deciso di usarlo perché ho dovuto tagliare i miei capelli 4 5 centimetri perché se voi avete visto dei video precedenti avete visto che i miei capelli erano oscuri e io ho deciso di fare questo colore biondo però praticamente mi sono rovinata tutti i capelli perché dopo farli tante volte i miei capelli sono diventati molto settili li hanno bruciati non so se è perché magari ho trovato la persona sbagliata per farmi questo colore però erano tutti bruciati ho dovuto tagliarli tanto e adesso i miei capelli sono in cura in alcuni video che farò prossimamente vi dirò cosa sto facendo per aiutare ai miei capelli che sono anche abbastanza bruciati diventare come prima quindi qua vi faccio vedere una foto come ero io prima vedete che i miei capelli erano lunghissimi erano tantissimi e adesso praticamente sono diventati sottili quindi quando mi hanno parlato di questo prodotto ho deciso di comprarlo e da un mese che lo sto provando sono soddisfatta già nella foto dall'inizio vi faccio vedere quanto sono cresciuti ancora non ho fatto il colore sono cresciuti abbastanza vi faccio vedere adesso una foto del giorno che li ho tagliati praticamente è stato il giorno di natale quindi in questa foto potete vedere come i capelli sono corti e dopo un mese esattamente ovviamente non sono molto lunghi però sono già cresciuti abbastanza per essere soltanto un mese che sto prendendo queste queste vitamine quindi sono molto soddisfatta queste vitamine hanno un alto contenuto di biotina, di zinco e vitamina c ovviamente solo le vitamine non bastano per far crescere più velocemente i nostri capelli se voi avete visto altri video io ho raccontato che è molto importante anche mangiare la proteina perché nelle proteine c'è il ferro e nel ferro c'è una sostanza che si chiama ferritina che è fondamentale per far crescere i nostri capelli quindi la proteina mangiare proteine ogni giorno è molto importante se vogliamo accelerare il processo di crescita dei nostri capelli quindi voglio raccontarvi un po' di più che cos'è la biotina e questo prodotto è alto contenuto di biotina e anche di vitamina c che è un antiossidante che è importante anche per la crescita dei nostri capelli e per la formazione del collagene e niente io sono soddisfatta, lo consiglio veramente se voi lo volete acquistare io vi lascio il link qui sotto se volete approfondire di cosa si tratta nella descrizione del prodotto che c'è su Amazon io l'ho comprato su Amazon diciamo che per la qualità del prodotto non mi sembra che costa molto sono 60 comprese e dovete prendere una al giorno quindi voi potete rendervi conto non soltanto dell'effetto di questo prodotto sui capelli ma anche sulle unghie perché le mie unghie adesso li sento anche più dure prima erano più fragili sono contenta, lo consiglio questo prodotto più altri prodotti che vi raccontaranno in altri video li sto usando per riuscire a che i miei capelli diventino come prima queste capsule oltre a avere vitamina c e zinco sono ad un alto contenuto di biotina la biotina è una vitamina conosciuta anche come vitamina H o vitamina B7 questa vitamina è fondamentale per il metabolismo e per la produzione di enzimi contribuisce al benessere della pelle, delle cellule e anche della digestione noi negli alimenti troviamo la biotina nelle carote, nelle banane, la soia, l'uovo, nel pollo e la carenza di questa vitamina si vede soprattutto nei capelli capelli sottili e anche unghie fragili e pelle secca o pelle rovinata quindi la biotina è fondamentale perché aiuta alla produzione di amminoacidi e gli amminoacidi sono la base delle proteine vi ricordo che le proteine sono, che i capelli sono formati di la cheratina che è una proteina, quindi la produzione di amminoacidi grazie alla biotina contribuisce anche alla crescita e alla salute dei nostri capelli amici per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima con un'altra recensione di un altro prodotto che sto usando se vi è piaciuto questo video datemi un bel pollice in su, iscrivetevi al mio canale condividete il video e ci vediamo alla prossima adios amigos